Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video da Harry Country Oggi ci troviamo a Sochi, in Russia Sarà una gara sicuramente diversa dalle altre che abbiamo fatto Perché, ora ve lo dico subito Avevamo un obiettivo di qualifica, arrivare ai sedicesimi E invece siamo arrivati ai ventiduesimi, ultimi proprio Ora vi spiego il perché Durante le qualifiche pioveva Quindi naturalmente i tempi erano molto alti Dopo io sono rientrato nei box e ha smesso di piovere Quindi tutti hanno cambiato le gomme I tempi si sono dimezzati Soltanto che io non ero al computer E quindi il tempo scorreva, scorreva, scorreva Quando sono tornato erano finite le qualifiche E quindi automaticamente mi sono qualificato ventiduesimo Ora abbiamo come obiettivo di gara arrivare almeno al diciottesimo E battere Rosberg Però penso che riusciremo a soddisfare solo il primo di obiettivo Anche perché battere Rosberg mi sembra molto molto difficile Visto che lui è terzo Quindi iniziamo Partiti Avevo visto quello che Era andato addosso Al muro quindi Ragazzi Sono diventato ottavo con un rettilineo Poi ho fatto pure un taglio curva Vabbè Daie daie Va bene così ragazzi Sono in vena di tagli curva Partire ventiduesimi dopo il rettilineo Essere ottavi non è stato male Dai Pensavo di non farcela mai E invece adesso sono qui Settimo posto Quindi posso sperare In In una coppa Fortunatamente la macchina non ha nessun danno Anche se prima mi sembra che Un po' l'avevo presa un'altra macchina Ricciardo giro più veloce Scusate Quinto Quarto Terzo Se terzo è Vettel Quindi Secondo è Rosebird Si fa dura Non so perché ho tagliato Corri country Ci sono Altri posti da recuperare Quei due Là davanti Sto rischiando un po' troppo A tagliare così Alle curve Già ho l'avvertimento La prossima mi darà una penalità Però non lo sto facendo apposta A tagliare Ci sono 13 giri In questa Tappa A soci Guarda Sto stronzo De Hamilton Cioè per poco Non è che sono riuscito A riprendere un po' La macchina Ero sbilanciatissimo Cioè Non ha visto che stavo io Là accanto Ha voluto comunque Vole Ha provato Più che altro A sorpassare Vettel Mannaggia Superato anche Vettel Ragazzi Ora si va All'attacco Di quei due Lì davanti Anche se sono Abbastanza distanti Penso sui 4 secondi Non lo so Ora chiediamo Ad Alex Cioè Alex Parla sempre Adesso Ho cliccato Per chiedere informazioni Sul più là davanti Silenzio Tombale Va bene 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 così Il grande Vasco 225.000 persone al Modena Park Record mondiale Notta porca Meno male Meno male Mamma mia Rosberg Siamo già in svantaggio nella rivalità Il primo posto non ci vuole Devo recuperare per forza Dai però mi sono avvicinato Mi sono avvicinato Un po' larghetta la curva Certo comunque è veramente strana La cosa successa alle qualifiche Non ero in camera E mi ero scordato Che il tempo scorreva Però fortunatamente Dopo il primo rettilineo Ero di nuovo Lì davanti Dai ho recuperato Prima era 4.8 Abbiamo 9 giri Ce la possiamo fare Magari poi fanno pure l'incidente Se ci dice bene Se ci dice bene Stanno nel pit stop Allora devo cercare di Di piottare Proprio tantissimo Devo prendere tantissimi secondi Ecco io ce l'ho al prossimo Infatti mi ricordavo che Ce l'avevo Non so Verso il quarto Quinto giro Non so se ho fatto bene Se volevo restare un po' più scia Forse potevo anche entrare Però Proviamo così Adesso siamo primi Cerchiamo di prendere Eccoli due Già si stanno avvicinando Ah no non sono loro Infatti Era impossibile Perché sono entrati Dentro i box Quindi Dai 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 Sento che sto facendo Un buon giro Con quanto riguarda i tempi Intendo Così ora entriamo nei box Così Sperando che i meccanici Vanno veloci veloci Infatti Non lo posso Non lo posso vedere Se sto facendo un buon giro Perché Ora rientro dentro ai box E quindi Il tempo non Dai 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 Veloce Veloce No adesso mi superano sicuro O forse no Bene bene Dai forse Rosberg è quella No ecco Rosberg Sta qua Eccolo Dai dai Sto avvicino Sto avvicinissimo All'attacco di Rosberg Giro 6 Ricciardo cosa vuoi Tornate nei bassi fondi Ricciardo Tanto se non sbaglio Già ho un punto in più Nella realità Perché ho il giro più veloce Mi sembra Ora se ripeto Il giro di prima Prima di entrare nei box Mi era piaciuto quel giro Era Penso l'avevo fatto veloce Ho preso il controllo Della pista Adesso Quindi vado abbastanza bene Ecco ristabilite le gerarchie Dopo che Sainz è rientrato Nei box Rosberg primo Io secondo Guadagnato la posizione Su Ricciardo Ecco pronto il DRS Vicini più che mai A Rosberg Solo che la Mercedes Corre Abbastanza Non ci interessa solo quella davanti Caro Alex Che dobbiamo arrivare primi Un'altra zona DRS Attivato Eccoci Pronti per attaccare Rosberg L'attacco avvenuto E ora siamo primi Siamo primi ragazzi Al giro Quasi 8 su 13 Siamo riusciti a guadagnare Il primo posto Partiti 22esimi Ultimi Ricordo Anche giro più veloce Buono Buono Bellissima gara Penso dopo il terzo posto Cioè Quanto distacco c'è Da me al quarto posto Saranno 30-40 secondi No forse un po' di meno Strano Nessun incidente Ora stiamo dando un po' di distanza Anche a Rosberg Rettilineo quasi 9 su 13 9 su 13 Solo lui però Solo lui però Che entra E entra la Serticar E lì Saremo anche noi Interessati Dai dopo di questa gara Posso dire che Se tutto rimane così Saremo i nuovi Saremo i nuovi Saremo primi Saremo primi nel campionato Nella classifica Perché Hamilton Non so in che posizione è Alcune informazioni su La sua vettura ha un problema Ed è costretto a rallentare Saremo a fare un aggiornamento completo Della gara Generale Allora Allora Aggiornamento completo Dagli 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 Vabbè stanno bene Le gomme Alex Intanto ragazzi Ricordo Seguitemi su Instagram Stesso nome del canale YouTube Seguitemi in tanti Mettete anche un mi piace a questo video Lo dirò anche alla fine però Non so Mi sta venendo in mente adesso Abbiamo carburante sufficienza per altri 5 giri Ho tagliato No 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 Ho tagliato e sono andato largo E siamo pronti Per un altro rettilineo Uno degli ultimi Potevo anche ridurre Buono 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 Rosberg Deve fare un tempo minore In tutti i settori Quanto mi piace quella curva Mamma mia che bella Curva tutta in velocità Curva tutta in velocità Dal terzo posto in poi Qualche volta Vedremo se Riusciamo a doppiare qualcuno Eccoci qui 12 12 Su 13 Manca poco alla fine Abbiamo carburante sufficienza per altri 4 giri Abbiamo carburante sufficienza per un'intera gara Per ora L'ordine di arrivo sarà Country Rosberg Ricciardo Quelli dopo Non ne ho idea Eppure mi sembra che Hamilton Era uno Non so Nelle prime posizioni In partenza Boh Ci avviciniamo All'ultimo giro Eccoci qui Ultimo giro Ragazzi Questo bel rettichino Che mi ha portato Al ventiduesimo All'ottavo posto Non me lo potrò mai scordare Ci manca solo che mi danno la pena Di da Ora All'ultimo giro All'ultimo giro All'ultimo giro Penso che abbiamo dato 2-3 secondi a Rosberg Infatti, 3-480 Aiuto Bandiera scacchi, ragazzi E questa è una delle vittorie più belle Mamma mia, ragazzi Eh, me lo dice anche Alex Che era fantastica, veramente Dall'ultimo al primo posto Bellissimo, bellissimo Ragazzi, bellissimo Eccomi Primo posto Davanti a Rosberg Ora vediamo Vediamo subito la rivalità Prima la classifica 25 punti, Hamilton Quarto, 12, eccoci qui Più 8 Vediamo la classifica Costruttori Secondi, bene Ora Direi che possiamo andare a vedere Scusate ragazzi Non so, si è bloccato No, eccolo Possiamo vedere la rivalità Adesso Ora penso, non so Forse siamo riusciti a A Come dire Ad andare pari O sopra 12, 13, 14 Eccoci Parità Superato di 1 Ragazzi Bene bene In vantaggio siamo Noi ci vediamo al prossimo video Mettete mi piace Condividete Ciao ragazzi Ciao ragazzi Grazie a tutti.